Grazie a tutti, grazie. Allora, premiazione, poi ti lascio il microfono e ti lascio da solo. Grazie. Ah, però, ben andato. Sì. Grazie. Guarda, a te il microfono. Ti ringrazio. La signorina non ha avuto un premio? Non l'abbiamo dato. Cuscito, sono commosso. No, visto che tu ogni volta che la parla ti commuovi, capite? Sì, anche io, quando l'ho visto la prima volta mi sono commosso. Ho pensato subito, c'è giù l'ha cattato che c'è cammino? La gravatta, chi l'ha pensata questa gravatta? Pensate, è l'unico pugliese che parla pugliese, in amore. Tutti quelli che sono saliti su questo palco, tutti in italiano perfetto, anche io. Sì, sono pugliese, mi avevo fuori da tanto tempo. Invece lui è rimasto proprio trappano, proprio di suo, di suo. Voglio complimentarvi. Voglio ringraziarlo perché cinque anni fa, quando mi ha chiamato per dirmi di questo premio, perché lui ha detto io mi porto avanti, tra qualche anno organizzeremo un premio. Ce l'abbiamo fatto. Eh? Ce l'abbiamo fatto. Ha staccato una segna di 4.000 euro, insomma, perché fossi qui, volevo dirlo, è stato molto generoso. Puoi andarti a seguire. A te ti hanno premiato. Non ti hanno premiato ancora. Sto aspettando. Sto aspettando. Sto aspettando. Vedi? Ti viene fuori, eh? Non ci riesce. No, no, grazie. Io, una cosa bisogna sapere. Perché ci avete chiesto tutto questo spazio, buone? Che si stanno godendo la cosa dall'inizio. Fabbè, che dici? Ci stiamo, vabbè. E a noi invece ci avete riservato, diciamo, questa, questo... No, però cuscito. L'abbiamo allargato. Devi sapere che mentre io parlavo, sai che è successo di tutto, no? Chi mi passa per il telefono, chi dice, no? Ho visto. E c'era anche chi spostava il tabellone qua dietro, quindi ci hanno dato anche più spazio. Ero lì lì che stavo per cascare. Comunque, schitulli, io volevo dirle che Cirasola sta qua fuori. Ma stavo qua fuori e ho detto, secondo te, faccio miglior figura, si chiamo al telefono? Oppure, se vengo di persona che non è il caso, che hanno premiato delle persone serie, dottori, musicisti, ce le gaffe a prendere su un premio. Infatti, io ho capito perché, perché ci sei dato tu, schitulli, a Cirasola, un premio. Ho fatto bene, pure lui va a campare, non è che... giustamente. E niente, no, per cui, Cuscito, praticamente, poi ho scoperto che stasera è una premiazione senza pubblico, perché noi non siamo, siamo tutti premiati stasera. Cioè, quelli che stanno di pubblico, sono farin di quelli che hanno avuto il premio, per cui, no, veramente, ambasciatore Castellanese, io ho avuto il privilegio, Cuscito, scusate l'offesa, di fare oggi il viaggio con l'ambasciatore, che, insomma, mi ha messo avanti, mi ha messo avanti, poi ho capito che voleva stare con i vetri scuri, ancora qualcuno lo riconosceva, c'è un cazzo di arcancio. Capito? Stava dietro con una signora molto distinta, che diceva di essere una moglie, però non lo sa, ormai non si sa più un'odd tra cose. normale lei, normale, bianco o nero, no, no, perché qua andiamo. E, no, lui ha detto di essere di gravina, capito? Però parla un italiano perfetto, infatti ho detto, volevo dargli delle ripetizioni di dialetto, perché ho visto che oggi sono l'unico ad essersi permesso di... Vabbè, oh, una cosa, l'ultima cosa, me ne vado pure io, ci stendo un interno, non me ne vado, perché sembra la trasmissione dei pacchi, eh? Oh no, capito? Non è che stanno 500 mila euro, la speranza, eh? 500 mila euro, l'ultima cosa, me ne vado, me ne vado. No, ma stai, stai. No, 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 non riesci, altrimenti mi dà pagato, senza offese, senza offese. No, perché sono, perché l'ambasciatore è venuto veramente, lei dall'America, no, si è trasferita a Roma, quasi, da Roma? È venuta? Da Gravina. Ci sei tu, eh? È venuta da Gravina, dalla Gravina, proprio. E domani? E domani? Scema Gravina. Scema Gravina, no, io vengo sempre volentieri. E, io non è vero che mi sono trasferito a Roma, ho fatto finta, come Cirasolo, se ho detto, se vado a Roma, mi chiamano per darmi la prendita. Allora, la cosa è, va bene, Pugliesi nel mondo, che poi Pugliesi nel mondo, quando mi hanno chiamato Cuscito, sembrava un invito ad andarsene proprio dalla Puglia, capito? Un premio ai Pugliesi nel mondo, cioè, va bene, capito? Però sarebbe anche carino, insomma, questi Pugliesi premiarli quando stanno pure in Puglia. Per cui, eh, non sarebbe male, visto che io ci ho lavorato tanto, e il primo premio che mi hanno dato è stato per la peggior schifezza che avevo fatto, che è stata, va bene, non voglio dirlo perché sennò, veramente, grazie, grazie a tutti, grazie anche per i soldi che mi avete dato. Emilio, Emilio, non è, sei qua. No, sono contento se sei qua, è arrivato un po'. Emilio, sono frizzi! A presto!